Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione del corso di diritto comparato delle nuove tecnologie, intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. Quest'oggi affronteremo il tema della intelligenza artificiale e della regolamentazione relativa a questa nuova tecnologia emergente. Gli argomenti che oggi dunque andremo a trattare è la legislazione, la regolamentazione in materia di intelligenza artificiale e poi andremo ad affrontare il tema degli algoritmi automatizzati che oramai influenzano la nostra vita e della privacy che ognuno di noi ha o dovrebbe avere di fronte agli algoritmi che oramai influenzano tutta la nostra vita. Dunque, il tema con cui oggi apriamo è la regolamentazione della intelligenza artificiale. In modo semplicistico potremo definire l'intelligenza artificiale come l'abilità di un sistema tecnologico di risolvere problemi o svolgere compiti ed attività tipici della mente e dell'abilità umana. Pensiamo a un meccanismo che ci dica all'interno della nostra casa che cosa fare, che ci suggerisca che cosa fare, che apprendendo da ciò che noi abbiamo fatto in precedenza pensi prima di noi che cosa avremmo potuto fare, che cosa vorremmo fare e ci dia un suggerimento su cosa fare. Oppure pensiamo a quei call center automatizzati quando andiamo su internet, noi magari andiamo su un sito internet, vogliamo chiedere delle informazioni e ci si presenta un cosiddetto chatbot, cioè un soggetto che sembra in carne ed ossa ma in realtà è una macchina che ci risponde con delle domande in qualche modo o delle risposte che sono legate a quello che noi diciamo e piano piano nel corso della conversazione impara a darci la risposta giusta per quel quesito. Ecco, questi sono due degli esempi di intelligenza artificiale che già tutti oggi possiamo verificare. Guardando specificamente al settore informatico potremo identificare la I o artificial intelligence come la disciplina che si occupa di realizzare macchine, di realizzare macchine, hardware e software in grado di agire autonomamente, risolvere problemi, compiere azioni, eccetera. Pensiamo anche alle macchine intelligenti nel settore bellico, i droni intelligenti, ma pensiamo anche ad esempio alle guide, la guida, le macchine a guida autonoma, sapete sono state sperimentate nel corso di questi ultimi anni da diverse grandi realtà. Tradizionalmente l'intelligenza artificiale si distingue in intelligenza artificiale debole e intelligenza artificiale forte. Come si distinguono queste due forme di intelligenza artificiale? Tenendo sempre in considerazione e va ovviamente sempre rilevato e capito che si tratta sempre di definizioni che lasciano il tempo che trovano, che sono legate alla nostra esperienza, ma naturalmente diciamo sono legate a un'esigenza di sistematizzazione che si scontra poi con quello che è la realtà dei fatti. Però in ogni caso ci serve per inquadrare il tema. Prendendo come base di partenza il funzionamento del cervello umano, pur sapendo bene, come vi dicevo prima, che ancora oggi non se ne comprendono ancora i meccanismi esatti, una intelligenza artificiale cosiddetta dovrebbe saper compiere alcune azioni o funzioni tipiche dell'uomo. Deve quindi agire umanamente e quindi, come dire, mimare le condizioni dell'uomo, deve pensare umanamente, non solamente agire, perché l'intelligenza artificiale per poter dire che ha caratteristiche umane o simili, ovviamente oltre che agire deve pensare prima di agire in maniera umana noi come uomini, prima di agire pensiamo e poi prendiamo la nostra decisione. Stessa cosa per poter dire che l'intelligenza artificiale è equiparabile a quella dell'uomo, bisogna agire e pensare in maniera umana. Poi però deve pensare razionalmente, perché noi abbiamo delle attività istintive o delle attività che sono irrazionali, quindi quando parliamo di agire e pensare umanamente, prendiamo in considerazione invece la razionalità delle nostre azioni, che invece tipica delle macchine. Agire anche razionalmente, oltre che pensare razionalmente. Vediamo allora, in relazione a quello che vi ho appena detto, quali definizioni possiamo dare di intelligenza artificiale debole e quale forte. Allora, l'intelligenza artificiale debole identifica sistemi tecnologici in grado di simulare alcune funzionalità cognitive dell'uomo, senza però raggiungere le reali capacità intellettuali tipiche dell'uomo. Parliamo di programmi matematici, di problem solving, come dicono gli anglosassoni, con cui si sviluppano funzionalità per la risoluzione dei problemi o per consentire alle macchine di prendere decisioni. È un concetto debole di intelligenza artificiale, perché? Perché stiamo parlando di sistemi di ausilio alla mente umana. Non sistemi che veramente mimano, come dire, la complessità della mente umana, ma che semplicemente si pongono come elemento che aiuta l'uomo a migliorare i propri processi cognitivi e decisori. Pensiamo, per esempio, ai cosiddetti sistemi esperti, a quei sistemi che aiutano l'uomo in determinate decisioni. Pensiamo, ad esempio, a quello che accade quando utilizziamo un meccanismo di intelligenza artificiale a supporto delle decisioni giudiziarie. Negli Stati Uniti sta prendendo molto piede il meccanismo dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario perché in quel sistema giuridico di common law anglosassone è molto importante la figura del precedente, cioè dei precedenti che sono stati stabiliti da altri giudici nel corso degli anni, dei decenni, dei secoli addirittura, per quanto riguarda gli Stati Uniti. È chiaro che un sistema di intelligenza artificiale in grado di aiutare il giudice, in quel caso è un sistema debole perché non si sostituisce alla figura del giudice nel identificare, nell'analizzare e nel decidere, ma semplicemente analizza un sistema consolidato in maniera certo intelligente ma sempre meccanica e presenta poi al giudice la propria soluzione sulla base di quello che è stato fatto in precedenza. È un sistema debole perché è sempre il giudice che decide quale possa o debba essere la decisione, quindi non possiamo parlare in quel caso di intelligenza artificiale forte, ma di intelligenza l'intelligenza artificiale forte, strong AI all'inglese, si tratta di sistemi addirittura sapienti, alcuni scienziati si spingono addirittura a dire coscienti di sé, che possono quindi sviluppare una propria intelligenza senza emulare processi di pensiero o capacità cognitive simili all'uomo, ma sviluppandone una propria in modo autonomo. Qui naturalmente stiamo parlando di qualcosa di diverso rispetto all'intelligenza artificiale debole. Stiamo parlando di una macchina che non emula i processi dell'uomo, ma lì crea, diventando quindi una sorta di uomo meccanico, uomo automatico. È chiaro che questo che vi sto dicendo comporta, laddove quindi l'intelligenza artificiale forte, che abbiamo visto definita testè, comporti che queste macchine possano in qualche modo prendere addirittura il sopravvento sull'uomo in un futuro prossimo. In altre parole il tema dell'intelligenza artificiale forte pone il problema etico del rapporto tra uomo e macchina. La classificazione da un punto di vista informatico tra intelligenza artificiale debole e intelligenza artificiale forte sta alla base della distinzione tra machine learning e deep learning, due ambiti di studio che rientrano nella più ampia disciplina dell'intelligenza artificiale e che meritano un pochino di chiarezza dato che ne sentiremo parlare sempre più spesso nei prossimi anni. Che cos'è il machine learning? L'intelligenza artificiale debole. Si tratta di un insieme di metodi per consentire al software di adattarsi, metodi attraverso i quali si permette alle macchine di apprendere in modo che possano poi svolgere un compito o di un'attività senza che siano preventivamente programmati, senza che vi sia un sistema preprogrammato che stabilisce come deve comportarsi e reagire un sistema di intelligenza artificiale. Si tratta di sistemi come abbiamo detto che servono ad allenare l'intelligenza artificiale in modo che imparando, correggendo gli errori, allenando se stessi, questi sistemi possono poi svolgere autonomamente un compito, una attività. Ecco, invece il deep learning è un qualcosa di diverso. Si tratta infatti di sistemi di apprendimento ispirati alla struttura e al funzionamento del cervello biologico e quindi della mente umana. Se il machine learning può essere definito come il metodo che allena l'intelligenza artificiale, il deep learning è quello che permette di emulare la mente dell'uomo, cioè è quello proprio uomo anche se meccanico ed è quello su cui dovremmo soffermarci da un punto di vista etico e giuridico per capire fino a dove la scienza può arrivare nell'emulare la mente umana, fino a dove possiamo spingerci nell'avere una macchina che forse un giorno un sistema che penserà autonomamente e che forse potrebbe anche, dico in maniera futuribile, ma potrebbe anche sostituire l'uomo un giorno. È ovviamente un tema che dovremo analizzare da un punto di vista soprattutto etico. Nel caso quindi di intelligenza artificiale il modello a matematico da solo non basta, è il deep learning in questo caso, quindi necessita di qualcosa che sia simile al funzionamento di un cervello umano, quindi reti neurali artificiali progettate ad hoc, Deep Artificial Neural Networks, e di una capacità computazionale molto potente, capace di reggere differenti strati di calcolo ed analisi, che è quello che succede con le connessioni neurali del cervello umano. Può sembrare quello che vi ho detto un livello tecnologico futuristico, ma questi sistemi che vi ho appena detto forti già sono in uso nel riconoscimento di pattern, nel riconoscimento vocale o delle immagini e nei sistemi di NLP, Natural Language Processing. Questi sistemi vengono utilizzati anche, per esempio, nell'ambito delle attività investigative o nell'ambito della ricerca di soggetti che abbiano compiuto dei reati. Sapete che diverse polizie, e vi compresa anche la polizia del nostro paese, in alcuni casi specifici, utilizzano meccanismi di analisi basati proprio sull'intelligenza artificiale, il riconoscimento facciale, per esempio, la possibilità che attraverso sistemi di sensoristica collocati, per esempio, nelle pubbliche strade, si possa, non dico prevenire un crimine, anche se si arriverà anche a quello, ma si possa in qualche modo riconoscere il volto di un soggetto che ha compiuto un reato, al fine di prevenire la commissione del reato da parte di quel soggetto, analizzandone magari le fattezze psicosomatiche catturate da una telecamera collocata su un lampione all'interno delle nostre città. Questo è già qualcosa che accade ordinariamente. Allora, chiaramente tutto quello che vi ho detto determina delle problematiche di carattere giuridico, la responsabilità, cioè, dei sistemi di intelligenza artificiale. È o meno ipotizzabile che un sistema di intelligenza artificiale sia responsabile delle proprie azioni, quindi giuridicamente responsabile, da un punto di vista civile, penale e amministrativo di ciò che fa, autonomamente rispetto a quello che l'ha programmato. Questo è uno delle frontiere su cui si sta ragionando. E questo è uno degli spunti di riflessione che vi lascio. Può o no una macchina essere responsabile giuridicamente delle proprie azioni? Passiamo ora al tema degli algoritmi automatizzati e della cosiddetta privacy. Perché? Perché tutti questi sistemi che abbiamo detto di machine, di deep learning, hanno necessità di analizzare i dati per poter apprendere i cosiddetti big data. Sicuramente ne avrete sentito parlare. E allora, questi meccanismi di analisi automatizzata potrebbero essere in grado di, per esempio, ledere i diritti della personalità. Perché chiaramente una macchina non è che è in grado di capire, elaborando quanta violazione dei diritti personali stia facendo nei confronti di un individuo. E quindi questo determina delle problematiche che attualmente sono ancora in fase di, in qualche modo, di definizione. Il tema dell'intelligenza artificiale ad oggi non è ancora compiutamente trattato in un testo normativo vero e proprio, ma ne sono presenti alcuni pezzi in determinate norme che si occupano di altro. È il caso, ad esempio, del regolamento 679 del 2016, denominato anche GDPR, che è pienamente operante nei territori dell'Unione, pur essendo stato emanato nel 2015, il 25 maggio del 2018. Il GDPR, quindi il Regolamento Generale Privacy, si prefigura come l'esempio più recente del modo in cui una normativa possa incidere sul modo in cui le organizzazioni gestiscono in forma automatizzata e usino i dati. Il nuovo testo, infatti, il nuovo regolamento pone particolare rilievo sul trattamento automatizzato dei dati personali, che poi possa sfociare in decisioni e azioni. È proprio l'articolo 22 del testo del Regolamento Generale Privacy che ribadisce come principio generale che il soggetto interessato, quindi il titolare del dato, quindi colui a cui si riferisce il dato, non il titolare del dato, questo interessato ha il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato dei propri dati, a cominciare dalla profilazione definita nell'articolo 4 del GDPR, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso modo sulla sua persona in modo significativo. Che vuol dire questa norma? Che cosa ci dice in relazione all'utilizzo di algoritmi automatizzati questa norma? Che cosa ci sta comunicando? Beh, la norma ci sta dicendo che noi abbiamo un diritto di fronte alle macchine, di fronte all'utilizzo dei big data e dei sistemi di intelligenza artificiale che elaborino, non incrocino milioni e milioni di dati. Abbiamo il diritto di non essere sottoposti a una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato dei dati, cioè l'ente, l'organizzazione, la società che vuole trattare quei dati, i nostri dati, lo può fare ma non può essere l'operazione fatta integralmente, o meglio, può essere fatta ma noi ci possiamo opporre a che questa enorme mole di dati venga trattata solo da una macchina. è evidente qui la paura da parte del legislatore che una macchina possa governare l'intero sistema invadendo la nostra sfera giuridica senza che noi abbiamo la possibilità di reagire all'enorme forza computazionale delle macchine. Nessuna tecnologia di intelligenza artificiale, in altre parole, è conforme al GDPR senza l'intervento umano. Ciò che viene richiesto a chi utilizza intelligenza artificiale per acquisire e elaborare dati da individui è infatti tenuto a informare sull'utilizzo che si fa della tecnologia di intelligenza artificiale. Quindi colui che lo fa deve valutare l'impatto che l'uso dell'intelligenza artificiale esercita sugli individui. Deve dare prospetto compiuto e completo del funzionamento della tecnologia per individuarne i criteri di ragionamento. Deve intervenire nel caso in cui si presentino possibili occasioni di violazione dei diritti degli interessati. Oltre a questo il GDPR si occupa anche di altro. L'articolo 24 del Regolamento Generale Privacy prevede che tenuto conto della natura, del campo applicativo, del contesto e delle finità di trattamento, nonché dei rischi di varia probabilità e gravità dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, il tirare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento di dati personali è effettuato conformemente al regolamento. L'articolo 24 in altre parole introduce il principio di accountability che si connota per due accezioni fondamentali. In primo luogo la responsabilità verso gli stakeholders del non corretto utilizzo delle risorse e della produzione di risultati in linea con gli scopi istituzionali. In secondis l'esigenza di introdurre logiche e meccanismi di maggiore responsabilizzazione interna alle aziende. Questo principio investe tutte le operazioni concernenti dati personali ed è connotato da un profilo di applicabilità oggettiva. Quindi il soggetto risponde se la propria intelligenza artificiale non è stato in grado di realizzare fin dall'origine un sistema in grado di proteggere i diritti degli utenti. A questo punto anche su questo secondo elemento poi ricapitoleremo gli spunti di riflessione ma anche su questo secondo punto possiamo porci una domanda. Un soggetto ha il diritto secondo il GDPR di non essere sottoposto ad una decisione basata esclusivamente su un processo automatizzato? Ricapitoliamo adesso gli spunti di riflessione di questa lezione. Una macchina può essere responsabile giuridicamente delle proprie azioni? E ancora un soggetto ha il diritto secondo il GDPR quindi il Regolamento Generale Privacy di non essere sottoposto ad una decisione basata esclusivamente su un processo decisionale automatizzato? Sono certo che dopo questa lezione sarete in grado di rispondere a questa domanda. Vi ricordo che il tema della lezione di oggi è stato intelligenza artificiale e regolamentazione. Io vi saluto e vi rimando al sito dell'Uninet1 per ulteriori spunti di riflessione e per le lezioni del corso e vi saluto.